e start the precedence un sacco di like e un sacco di commenti pertanto mi raccomando commentatemi qua sotto facendomi sapere se vi piace la serie ovviamente e soprattutto dato che nell'ultimo episodio mi è stato chiesto di fare video più lunghi cercherò di fare appunto video più lunghi intanto la cosa che andremo a fare oggi è la caccia all'uomo quindi in questo caso dobbiamo vedere dove sta eccolo qua giù verso venice dobbiamo andare qui e dobbiamo andare a uccidere praticamente uccidere barra catturare in base a cosa ci richiede la missione fatemi vedere ok catturalo quindi ci chiede di catturarlo non dovremmo ucciderlo se lo uccidiamo prenderemo meno soldi se invece lo catturiamo come la missione richiede ovviamente guadagneremo più soldi ovviamente se state vedendo la moto qui MK2 non preoccupatevi l'oppressor non è mia mi è stata prestata da MZ Dark che ovviamente ringrazio ovviamente vabbè è giusto per fare le cose più velocemente perché se no ci mettevo una vita per andare da una parte all'altra della mappa con la macchina però ovviamente se voi iniziate da zero e non avete un amico come vabbè nel mio caso MZ Dark che vi presta una moto MK2 allora vabbè dovete farlo con la macchina e quindi niente comunque siamo quasi arrivati manca veramente pochissimo tempo come vedete ho fatto veramente benissimo a farmi prestare la moto perché così sto veramente facendo molto ma molto più velocemente rispetto a fare tutto con la macchina siamo quasi arrivati ovviamente ma prima di catturare il tizio ovviamente per quelli nuovi di voi che non sono ancora iscritti al mio canale ovviamente vi invito qua sotto ad iscrivervi al canale attivare la campanellina in modo tale da ricevere tutte le notifiche di quando esce un video e ovviamente per non perdervi tutti i prossimi episodi della serie di diventiamo ricchi su gt online allora intanto qua devo cercare il tizio adesso e no non voglio caricare le prostitute con questo veicolo sto cercando un tizio mentre questi scappano perché vedono uno arrivare con una moto volante con dei missili e dei propulsori e si fanno due domandine allora mi sono un attimo fermato perché come vi dicevo se volete vedere altri video di questo tipo mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina e soprattutto mi raccomando lasciate un bellissimo like a questo video cerchiamo di arrivare a tantissimi like ovviamente in modo tale che mi fate capire l'apprezzamento per questa serie e che cercate insomma di darmi una mano da questo punto di vista tanto alla fine il like è gratuito non vi costa assolutamente niente quindi andate adesso veramente ci mettete pochissimo tempo lasciate like e ovviamente mi fate un grandissimo favore oh come state vedendo adesso sta arrivando anche MZ Dark col buzzard credo intanto qua c'è questa tipa che sta passando ok ecco qua MZ Dark devo disabilitare la modalità passiva adesso come vedete e iniziamo a cercare adesso il tizio ovviamente è venuto MZ Dark col buzzard dato che devo trasportarlo ovviamente col buzzard perché con la moto MK2 non posso trasportare un'altra persona perché ovviamente è per una singola persona e quindi per quello è venuto MZ Dark col buzzard così faccio prima ovviamente e non so dove sia sinceramente vedo un sacco di prostitute ma non vedo il tipo che devo uccidere tanto qua proviamo a tornare qui sulla spiaggia magari è qui da qualche parte vediamo un po' questo non mi sembra il tizio e vediamo qui oh eccolo qua eccolo qua l'ho trovato perfetto stava qui a farsi un hot dog dove in realtà però non c'è nessuno allora se il ricercato è catturato vivo riceverà una recompensa maggiore quindi andiamo di pugno cazzotto ignorante ovviamente lui ha tirato fuori la mazza però a terra attenzione lo continuiamo a pestare provo a pestarlo fino alla fine spero non muoia il tizio proviamo a continuare a pistarlo speriamo si arrenda ok ok aspettate scomparso il coso fermi oh perfetto si è arreso si è arreso perfetto ora è disposto a seguirti portalo da maude quindi adesso lo dobbiamo portare da maude come vi ho detto dovremmo usare il buzzard perché ovviamente ah non posso accedere a questo veicolo fantastico ok l'ho ammazzato in realtà non conveniva dal punto di vista della missione abbiamo ricevuto solo 5000 dollari che ovviamente l'abbiamo ucciso sarebbe stato meglio accompagnarlo però ci avrei messo troppo tempo vabbè abbiamo preso 5000 dollari in ogni caso veramente buono e alla fine ci siamo divertiti un po' vediamo nelle mail abbiamo oh finalmente la caccia al tesoro io in realtà stavo aspettando questo però non mi arrivava la mail e quindi dovevo fare qualcos'altro nel frattempo comunque adesso andiamo a fare quello che avremmo dovuto fare prima ossia la caccia al tesoro quindi praticamente riceveremo queste mail sul telefono dove ovviamente vi indicherà un posto dovremo andare in questo posto cercare un indizio ovviamente nella foto vedete il posto dove bisogna cercare l'indizio cercheremo l'indizio in quel posto e una volta che avremo tot indizi potremo finalmente trovare il tesoro ora trovando il tesoro in realtà non si guadagna niente oltre ovviamente al tesoro stesso però questo tesoro ovviamente non sono soldi bensì è un'arma in questo caso sarà una revolver di Red Dead Redemption 2 è una sfida che è stata aggiunta appunto per via di Red Dead Redemption 2 però se voi vi attivate il social club quindi attivate il vostro account social club e al contempo fate una sfida con questa nuova arma che vi sarà data dalla caccia al tesoro riceverete 250.000 dollari quindi praticamente la prima paga bella robusta che incasseremo appunto su GTA Online anche perché un po' di soldi l'abbiamo già incassati cerchiamo di fare velocemente di arrivare lì al punto interrogativo in basso a sinistra come vedete siamo già arrivati praticamente si trova in quest'area quindi ora dobbiamo perlustrare tutta quest'area e cercare questo totem dove poi ci sarà sicuramente un indizio dato che siamo dall'alto facciamo abbastanza velocemente ok eccolo qua lo ha già trovato a mezzata dark comunque siamo in due quindi facciamo più veloce a fare tutto ovviamente vi ho detto che in questa serie avrei fatto le cose fatte meglio e ovviamente più velocemente diciamo che se voi non avete le possibilità appunto di avere un amico col buzzard o comunque con un oppressor ci metterete un po' di più però è giusto per farvi vedere cosa bisogna fare all'inizio quindi grazie a mezzata dark di nuovo e come vedete eccolo qua questo è l'indizio vi ho zoomato sopra c'è pure scritto qualcosa veramente sopra eccolo qua e ok perfetto praticamente in alto vedete la traduzione in italiano abbiamo esaminato quindi adesso l'indizio quindi possiamo di nuovo uscire adesso come vedete abbiamo ricevuto un'altra email del secondo ricercato vabbè questa è sempre della tizia di prima per cui stiamo lavorando però adesso non ci interessa perché adesso dobbiamo continuare ovviamente il tesoro è stato spostato e quindi dobbiamo cercare in quest'altra zona eccolo qui dov'è? fatemi vedere non lo vedo dove si trova? ah oddio era piccolissimo ecco perché non lo vedevo eccolo qua perfetto quindi adesso dobbiamo andare lì in realtà è abbastanza vicino e ovviamente bisogna cercare appunto questo nuovo indizio perfetto solo un chilometro da qua quindi facciamo veramente super super in fretta dobbiamo vedere appunto che altro indizio ci sta poi una volta che avremmo visto determinati indizi ovviamente poi potremo andare a prendere il tesoro e poi una volta preso il tesoro potremmo finalmente completare la sfida quindi diciamo che a livello di gioco probabilmente ci vogliono mezz'ora barra un'ora per fare tutto quanto quindi vabbè alla fine conviene perché comunque vi fate 250.000 dollari più l'arma ok l'indizio si dovrebbe trovare qui da qualche parte vediamo un po' forse su quest'albero no e l'aria è piccola quindi in realtà non so dove potrebbe stare questo posto vediamo un po' MZ Dark mi dice qua in questa fessura in questa cavità che manco avevo visto io tra l'altro quindi grazie di nuovo MZ Dark l'indizio dovrebbe stare qua dentro quindi alquanto nascosto e sarebbe questo tipo qua ovviamente con la faccia dilaniata molto family friendly questa scena sinceramente non so se oscurarlo oppure no perché non vorrei che poi mi tolgono la monetizzazione perché ci sta quel cadavere lì per terra quindi non lo so vediamo quindi anche questo indizio l'abbiamo trovato adesso abbiamo due punti di domanda quindi andremo a uno dei due e continuiamo a cercare gli indizi ovviamente se state vedendo questo video non avete ancora fatto la caccia al tesoro i punti ovviamente dove trovare gli indizi sono sempre gli stessi quindi una volta che la fate potete praticamente andare nei luoghi già direttamente perché magari avete già visto questo video quindi già sapete dove sono oppure trovate anche delle altre guide su google eccetera eccetera basta che ovviamente cercate caccia al tesoro e i luoghi e ovviamente vi dirà tutti i luoghi ok speriamo che questi non ci rompano le scatole vabbè che siamo troppo veloci per loro ok siamo arrivati qui al nostro prossimo punto che si trova praticamente qui sulle sponne del lago vediamo un po' dovrebbe stare all'interno di quella casina credo farebbe tantissimo senso altrimenti non saprei dove potrebbe stare quindi atterriamo un attimo in maniera abbastanza soft e delicata eccoci qua scendiamo andiamo a vedere ovviamente all'interno della casa vediamo un po' e sì devo fare tutto al giro perché non si può entrare vediamo un po' se troviamo qualcosa e ah ok l'indizio era questo meno male che c'era che c'era il coso che si poteva premere sull'indizio perché in realtà non me ne ero nemmeno accorto all'inizio quindi indizi scoperti due su tre ovviamente della caccia al tesoro manca l'ultimo indizio che ovviamente si trova laggiù quindi facciamo abbastanza in fretta ad arrivare perché praticamente è dall'altra parte del lago siamo a una velocità praticamente super sonica ok l'indizio si dovrebbe trovare in questa zona qua forse al di sopra di questo silo tra l'altro ho visto c'era un fucile forse un cecchino e vediamo un po' dove si trova questa questo prossimo indizio credo qui all'albero vediamo un po' cerchiamo di atterrare e vediamo se si trova qui ok dovrebbe essere qui da qualche parte nascosto e dovrebbe dovrebbe essere questo in realtà questo bauletto credo infatti eccolo qua e ovviamente questo era un indizio abbastanza eclatante perché vi fa vedere praticamente la forma della pistola che è la pistola che andremo ovviamente a trovare quindi indizi scoperti 3 su 3 come vedete cancellato un attimo tutte le attività la posizione del tesoro è stata rilevata quindi ovviamente adesso abbiamo la posizione del tesoro vediamo dov'è un attimo eccolo qua giù vicino fort zancudo si trova perfetto quindi adesso andiamo velocemente lì a fort zancudo e andiamo a prendere ovviamente il tesoro che ovviamente è la pistola che avete visto lì nel piccolo bauletto ma adesso la vedrete di nuovo poi una volta presa la pistola dovremo completare una sfida che poi ovviamente il gioco ci dirà per ottenere appunto 250.000 dollari quindi come vedete in realtà non è che ci vuole proprio tantissimo tempo ci ho messo forse sì e no per trovare gli indizi 10 minuti cose così all'incirca ovviamente perché ho questo veicolo super potente ma alla fine se lo fate con un'auto credo massimo mezz'ora comunque con la sfida è tutto secondo me ci vuole massimo un'ora ma proprio se lo fate in maniera super lenta tutto che secondo me si può fare anche con meno di mezz'ora e quindi ovviamente con mezz'ora di gioco praticamente vi fate 250.000 dollari ok siamo arrivati sul posto e ovviamente questa sfida si può fare solo una volta quindi non è che la potete fare all'infinito e quindi fare sempre 250.000 dollari perché se no sarebbe troppo bello e quindi una volta fatta intanto qua ci sono due tizi morti con una pala e un bauletto lì è ostruito? come è ostruito? che vuol dire ostruito? l'indizio ostruito rimuovilo ok ah ok ho capito intanto vi ho fatto un primo piano lì sul coso probabilmente è la moto mk2 che si trova troppo vicina aspettate che la sposto vediamo un po' se adesso oh perfetto premi per aprire il forziere mamma mia ragazzi eccoci qua pronti per aprire sto forziere mamma mia eccola qua la revolver ovviamente un po' arrugginita però tanta roba questa qui direttamente da Red Dead Redemption 2 ci è arrivata revolver a doppiazione come vedete adesso lo possediamo quindi risaliamo adesso sull'oppressor mk2 e andiamo via perfetto questo non era non era previsto sono morto in un modo veramente bruttissimo cioè penso morire così dopo aver raccolto la pistola è veramente una cosa bruttissima ok iscriviti al social club di Rockstar Game per accedere alla sfida colpi alla testa con il revolver come avete visto c'era scritto lì sarai ricompensato in GTA soldi e quindi una variante esclusiva del revolver a doppiazione vabbè che già abbiamo se non siete ancora iscritti al social club dovete iscrivervi e poi fare questa sfida perché altrimenti non ve la conta se siete invece già iscritti potete farla subito ovviamente io già sono iscritto quindi vado a fare questa sfida e ovviamente per completare questa sfida vi serviranno 50 colpi alla testa con quest'arma quindi è abbastanza difficile perché dovete trovare 50 persone praticamente ferme per sparargli in testa anche perché se è in movimento diventa più difficile poi sparargli in testa adesso cerchiamo di completare questa sfida e dopo 50 colpi in testa finalmente riceveremo i nostri 250.000 dollari ovviamente per quanto riguarda l'arma già ce l'abbiamo quindi in realtà non è che ho fatto la sfida per l'arma perché poco mi interessa di quel revolver doppiazione però l'ho fatta prevalentemente per avere i soldi iniziali anche perché poi avendo questi soldi iniziali potremmo fare un bel po' di cosette ovviamente una volta ricevuti i soldi non dovete andare e spenderli tutti in cose inutili bensì li dovete investire cosa che poi andremo a fare insieme nei prossimi episodi e quindi mi raccomando se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi in modo tale da non perdervi i prossimi episodi lasciate like e soprattutto attivate le notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video intanto io sto andando qui su questo posto perché mentre che ci sono faccio due missioni in uno perché uccido praticamente il ricercato che si trova qui quindi prendo i 5.000 dollari dell'uccisione ed in più che tra l'altro prima devo trovarlo ed in più poi prenderò anche i soldi dalla sfida magari si trova qua il tizio che dobbiamo uccidere vediamo un po' anzi la tizia perché se non errore una tizia vediamo forse è quella vediamo un po' sì sì è quella è quella infatti se il ricercato è catturato vivo riceverai una ricompensa maggiore come al solito però in questo caso non mi interessa in questo caso semplicemente gli sparo perché corri verso di me oddio con un martello tra l'altro perfetto colpo in testa l'abbiamo uccisa e abbiamo preso anche 5.000 dollari come vedete adesso abbiamo 30.000 dollari praticamente in banca quindi ottimo lavoro 30.000 dollari già un ottimo gruzzoletto iniziale più ovviamente i 250.000 che riceveremo dalla sfida mentre che ci sono sapete che c'è vado a rapinare questo supermercato e mentre lo rapino ovviamente mi prendo i soldi e poi gli sparo in testa quindi è un puntarello in più per la nostra missione ovviamente sono 50 i colpi in testa che dovremmo fare una volta diciamo ottenuti questi 50 colpi in testa ci darà i soldi ok eccoci qua ciao tizio usciamo il nostro big revolver speriamo che si spiccia questo anche perché già ho due stelle di polizia fatemi sparare un po' qua e là almeno si sbriga un po' di più sparo alle bottiglie perché si rompono e sono più divertenti da vedere in frantumi e questo tizio ancora è lento non è molto intimidito in realtà con tutta la calma olimpica grazie per i soldi 1500 buono è un bel colpo in testa così siamo già a due e mi aiuti per la challenge ora dato che ci sono sapete che c'è sparo in testa pure da me già da dark così ok perfetto abbiamo praticamente tre colpi in testa già fatti intanto lì c'è la polizia mi sta sparando dio avevo pochissima vita meno male che me ne sono andato col boost se no sarai morto malissimo adesso prima di tutto devo seminare la polizia anche perché ho tre stelle quindi tra poco arriverà anche l'elicottero eccolo infatti l'ho chiamato cerchiamo di evitare l'elicottero perché quello poi diventa un bel casino seminiamo la polizia poi continuiamo ovviamente con la nostra challenge ok perfetto finalmente ho seminato la polizia fatemi innanzitutto depositare i soldi in banca anche se sono pochi per ora cioè a quello a cui siamo abituati dalla scorsa stagione però comunque sono 1578 dollari in più che stanno meglio nelle mie tasche rispetto alle tasche di altre persone quindi adesso abbiamo 31.000 dollari come vedete e 460 ora dobbiamo completare questa sfida quindi dobbiamo andare in un posto a terra ovviamente dove ci siano abbastanza persone vediamo un po' sulla mappa dove possiamo andare e direi in città perché comunque in città ci sta più movimento però non lo so perché ci sono anche dei player quindi non vorrei che poi magari mi vengano a disturbare oh perfetto mi è arrivata una nuova mail stavo aspettando proprio questo ossia una nuova taglia quindi ovviamente almeno così mi prendo pure i 5.000 dollari della taglia più ovviamente il colpo in testa quindi fatemi un ottimo atterrare così vedo dov'è questo tizio per cui reclamare poi la taglia e ovviamente poi lo andremo a seccare ok come vedete questo è il tizio vediamo un po' dove si trova questo tipo ok si trova abbastanza vicino è dall'altra parte del monte Ciliad quindi non è in città o in parti lontane quindi facciamo abbastanza in fretta ad arrivare o scaliamo tutto il monte Ciliad oppure dobbiamo fare tutto il giro vediamo un po' credo che ci convenga fare il giro perché con questo veicolo è più veloce fare il giro rispetto a salire comunque come potete notare sto andando a una velocità veramente super sonica con questo veicolo le macchine in confronto sembrano lumache sono andate a sbattere adesso pure mezzo in fiamme sto cosa speriamo non esploda anche perché poi sennò dovrei pagare pure i danni quindi evitiamo magari di fare danni ok intanto siamo arrivati qui sul punto con parecchia velocità e atterriamo un attimo e vediamo dove si trova il tipo ma non è lui però intanto gli sparo in testa così mi prendo un altro puntarello per le nostre missioni ok quindi ho attirato un po' l'attenzione che vedo sparando ok aspettate ah madonna non l'avrei mai trovato questo intanto eccolo qua intanto sta scappando attenzione spero di averlo preso in testa perché era in movimento era difficile intanto l'ho ucciso mi hanno dato i 5000 dollari quindi adesso abbiamo 36.460 e abbiamo anche le stelle di polizia una in realtà non è tanto possiamo praticamente scappare con l'oppressor al volo perfetto quindi abbiamo preso anche questi altri soldi abbiamo fatto credo appunto altri due colpi in testa perché uno è sicuro l'altro non lo so intanto ci ha mandato ovviamente il messaggio per confermarci che il tizio è morto e ovviamente non vedo l'ora che mi mandi un altro tizio da uccidere in modo tale che mi prendo i 5000 dollari e il colpo in testa ovviamente per sbrigarvi e fare le cose più velocemente potreste anche attirare l'attenzione della polizia quindi sparare con la polizia però morirete sicuramente parecchie volte oppure andare in un posto super affollato in città e usare la pistola lì per fare più colpi in testa però dato che io comunque non ho problemi di tempo dato che ho risparmiato comunque tantissimo tempo sugli indizi e queste cose qui intanto abbiamo seminato la polizia siamo quasi a rango 4 tra l'altro allora il negozietto si trova qui quindi lo rapiniamo e ci prendiamo i soldi parcheggiamo davanti a questo che è entrato nella sua macchina da comune persona e io sono arrivato dal cielo con una moto volante ok togliamo la revolver entriamo senza nel negozio salve signore ora la tiriamo fuori e ci facciamo dare i soldi speriamo che si spiccia adesso anche qui spariamo un po' alle bottiglie così le facciamo scoppiare tutte ah scoppiano pure i pacchetti di sigarette non lo sapevo intanto missione conclusa non so di quale motorcycle club però sicuramente non del mio 1700 buono grazie mille e un bel colpo in testa ora usciamo abbiamo tre stelle quindi in realtà ce ne ha date di più perché credo abbiamo già rapinato il secondo negozietto di fila quindi ce ne ha date di più per questo motivo non so se intanto dovrei depositare i soldi perché se no li perdo non so se mi conviene ingaggiare il fuoco con la polizia oddio no ho fatto una cavolata non mi uccidete vi prego non mi uccidete non mi uccidete non mi uccidete non mi uccidete ok un altro colpo in testa credo vediamo ok forse un altro sto ingaggiando pure a mezzata dark poveraccio gli sta sparando nell'elicottero devo cercare di non morire perché se no perdo i 1700 dollari che ho fatto con così tanta fatica e oddio fatica no però comunque mi darebbe fastidio perderli ah mi ha mandato un'altra mail lei con ok stavo mirando a mezzata dark non so per quale motivo e mi ha ucciso il poliziotto speriamo di non aver perso ok vabbè abbiamo perso 300 dollari pensavo peggio depositiamoci questi innanzitutto perché se no poi li riperdiamo poi sarebbe un bel casino quindi depositiamoli all'interno del nostro conto in banca vediamo a quanto arriviamo 37.700 ottimo vediamo qua la mail che dice quarto ricercato vediamo un po' sembra una persona molto losca dalla foto vediamo dove si trova ah vabbè si trova dall'altra parte del lago abbastanza fattibile ok ora semplicemente andiamo dall'altra parte del lago che praticamente già siamo arrivati perché con questa moto faccio super super veloce e quindi non vedo l'ora di comprarla all'interno di questa serie perché credo sia uno degli acquisti più importanti a livello di mobilità e cose che uno dovrebbe fare su GTA Online però costa ovviamente anche tanti soldi intanto cerchiamo il tizio e qua sarà abbastanza difficile perché è pieno di case e cose così quindi bisogna perlustrare bene tutta la zona ok eccolo là sta scappando è male molto male in realtà se ho fatto un colpo in testa sono un genio intanto sto cercando di fare i colpi in testa anche a quelli 42.700 dollari intanto quindi oltre che facciamo i colpi in testa aumentiamo mentre che ci sono rapiniamo pure il negozietto ho già una stella di polizia però se questo si spiccia dovrei fare abbastanza velocemente adesso gli metto veramente tanta pressione inizio a spaccare tutte le bottiglie che c'ha in modo tale da farlo sbrigare ok non ci sarà neanche un cane al funerale di quel tizio poveraccio vabbè intanto a noi ci ha dato i soldi ok altri 1000 dollari perfetto e un altro colpo in testa aumento di rango anche a livello 4 che avrà il livello 4 rango altissimo forse ho fatto un altro colpo in testa e addirittura 2 non lo so io ci provo questo sicuramente no oddio forse si ho 4 stelle tra l'altro che sono veramente tante e mi sta sparando anche l'elicottero wow spero di non morire perché se muoio qua muoio sopra l'acqua mi cade la moto in acqua è la fine quindi gli devo sparare un po' di razzi così me lo tolgo di mezzo se questo continua a muoversi così velocemente sarà veramente difficile ucc oddio non ci credo cioè l'avete visto come sono morto tramite l'elicottero che mi è venuto a to- no no raga no 10.000 dollari di danno lo sapevo l'avevo detto l'avevo detto l'avevo detto prima di farlo porca miseria 10.000 dollari buttati ok voi cercate di evitare di buttare 10.000 dollari così intanto fatemi depositare questi 700 dollari in banca come contentino ho fatto una cosa abbastanza cretina ora concentriamoci al volo mi sono rotto voglio fare tutti questi colpi in testa al volo e basta cerchiamo ok dovrei averne fatti degli altri ora dato che sarà difficile trovare altra gente qua non mi investire grazie per non avermi investito dovremmo cercare altra gente il che sarà abbastanza difficile quindi spero a questo punto di ingaggiare con la polizia perché così mi sbrigo faccio questi 50 colpi in testa mi prendo questi 250.000 dollari e ciao anche perché sono stato troppo gentile fino a mo oddio gli ho fatto un headshot a quello in movimento sul quad veramente incredibile date boom manco se l'aspettava ovviamente essendo un rango così basso uno sputo di vita uno sputo di mira uno sputo di tutto fa schifo beh comunque ho già fatto un bel po' di colpi in testa sono morto però sfida colpi alla testa con i revolver 20 rimasti quindi ne devo fare ancora 20 vuol dire che ne ho fatti 30 fino adesso siamo a buon punto più di metà credo che a questo punto ne mancano pochi perché comunque erano 10 un bel po' di tempo fa quindi meno che non ho sbagliato o non me la oh mamma mia ho parlato come vedete 250.000 dollari infatti me li ha messi in banca per fortuna e non in contanti quello mi ha investito malissimo vediamo se riesco a uccidermi veloce veloce ucciditi boom grazie potete capire veramente quanto sono felice di aver finito questa sfida perché mi ero rotto le scatole di stare lì a farmi massacrare dalla polizia e ho ottenuto finalmente 250.000 dollari sì siamo arrivati a 280.000 dollari adesso guardo un po' in giro per la mappa se rimane qualcosa da fare ma non credo tra l'altro come vi dicevo c'è appunto questa sfida dell'accetta che se completate riuscirete a fare praticamente la stessa cosa come col revolver e prendere altri 250.000 dollari se uccidi tutti i ricercati poi la tipa ti dirà guarda c'è questo tesoro che si trova lì tu lo vai a prendere prendi l'accetta fai determinate kill con l'accetta e prendi altri 250.000 dollari praticamente direi che con queste due sfide fai subito mezzo milione di dollari puoi farli benissimo da solo in sessione senza avere bisogno di altri player che ti aiutino senza giocare attività o cose così e quindi è veramente facilissimo da completare ok intanto avevo cambiato auto perché con quella lì ci mettevo troppo e siamo arrivati qui sul punto recuperare armi no non mi interessa perché non sto andando per recuperare le armi ma voglio uccidere l'ultimo ricercato così almeno la tipa mi dice dove si trova l'accetta e ovviamente quello poi lo faremo nel prossimo episodio perché sennò diventerebbe troppo lungo questo episodio ho già fatto veramente un casino di cose sto anche prolungando perché voglio appunto finire tutto all'interno di questo episodio anche per quanto riguarda le missioni dei ricercati qua e uccidere sto tizio prima ovviamente dobbiamo trovarlo e poi una volta ucciso ci dirà ovviamente dove è il tesoro e il tesoro come vi ho detto lo andremo a prendere nel prossimo episodio ovviamente e nel prossimo episodio completeremo anche la prossima sfida quindi faremo gli altri 250.000 dollari più ovviamente altre cose quindi raccomando non perdetevi il prossimo episodio che uscirà lunedì alle ore 15 intanto qui abbiamo trovato il tizio gli spariamo ancora in testa perché ormai siamo nel mood dello sparare in testa però in realtà non serviva ok l'ho ucciso quindi altri 5.000 dollari e comunque non fanno schifo ora mi dovrebbe chiamare o comunque mandare un'email la tizia per dirmi appunto di dove si trova la zietta ok tesoro tutte le canaglie sulla lista sono state catturate posso finalmente tornare a guardare in pace la tv ok l'ultimo aveva un nascondiglio segreto e quindi mi ha mandato la posizione di questo nascondiglio segreto quindi mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un bellissimo like a questo video cerchiamo di arrivare a tantissimi like condividete il video il più possibile da Adria tutto bella ok